Siamo in via di Brozzi in una corte interna, vedete si passa sotto quell'arco volendo anche con la macchina per scaricare e abbiamo questo terratettino quindi dalla gronda in poi questo è l'ingresso principale, ci veniamo dopo come vedete è molto molto luminoso ecco quello è la porta finestra della cucina, noi siamo tutta questa parte questa è tutta un'area condominiale ovviamente, quindi possiamo solo transitare ma non è di proprietà, fosse biologica indipendente, già che lo vediamo bocchette d'ariazione e entriamo allora siamo su due livelli qui abbiamo questo bel caminetto molto 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 luminoso quindi questa è la zona giorno che prosegue nella cucina abitabile aria condizionata come vedete termo autonomo, la caldaia in quello sportello e qui siamo fuori dove eravamo prima affacciati sull'aria che ripeto è condominiale poi saliamo sopra troviamo la zona notte relazione tecnica già fatto, pronti per la vendita allora qui abbiamo bagno finestrato con doccia camera dei figlioli ampia e luminosissima, guardate che bella luce e qui camera dei genitori bella grande veramente molto molto spaziosa, guardate e qui dietro abbiamo vediamo un attimo di entrare, eccoci qua oltre alla cabina guardaroba qui vediamo se riusciamo ad aprirla non siamo riusciti ad aprirla c'è comunque un vano sottotetto che poi lo vediamo meglio un'altra volta grazie a tutti